buonasera a tutti ragazzi buon pomeriggio quasi buonasera ormai come è cambiato l'orario sembra già buio allora benvenuto a Nino Daniela buonasera buona live al nostro guru del super bonus niente poco di meno poi abbiamo Maurizio Piga ciao Mauri che saluta anche tutti i partecipanti io bevo il mio solito goccino d'acqua benvenuti anche Eletteri Giancarlo vediamo eccoli che stanno arrivando da la YouTube Facebook sta arrivando adesso perfetto bene ragazzi io inizio perché tanto abbiamo un sacco di cose da vedere e non vorrei essere troppo giusto di orario quindi intanto spero che siate bene e poi saluto sia chi ci seguirà in diretta ma anche chi vedrà la registrazione di questa live oggi siamo nuovamente in diretta con la puntata numero quattrocentodiciassette la prima di questo novembre live che come sapete è programmata solitamente per il giovedì però ieri era la il giorno della commemorazione dei defunti per cui abbiamo pensato di dedicare questa giornata agli affetti soprattutto a quelli che non ci sono più per cui insomma abbiamo pensato con Mari di rinviare a oggi ok spero che non sia un problema per nessuno di voi fatemi prendere un appunto delle tante cose che devo fare dopo la live saluto anche Antonello Corrado Gregorio Rita Simone Paolo insomma ragazzi grazie mille a tutti come sempre per il solito affetto di cosa parleremo oggi parleremo delle pressioni che tutto il comparto dell'edilizia in questo momento sta facendo sul governo affinché inserisca nella legge finanziaria duemila e ventiquattro una proroga di almeno qualche mese per consentire il completamento dei cantieri in corso vi spiegherò anche un pochettino com'è la situazione dei vari cantieri a seconda della tipologia di diciamo modalità di fruizione della della del beneficio fiscale individueremo i vari mi sto guardando la scaletta così non sbaglio vedremo insomma quali sono le scadenze per ciascuna tipologia di progetto vedremo cosa succede intanto perché i cantieri sono bloccati o lo sono stati per lungo tempo che cosa succede se non riesce a chiudere i cantieri dentro fine anno e soprattutto chi ha scritto al governo e per dirgli che cosa per proporgli nel dettaglio qualcosa nel frattempo mentre gli altri ci raggiungono ti ricordo che se vuoi supportare questa nostra iniziativa di live e video brevi ci sono un paio di cose che puoi fare vi metto il link qua tra i commenti intanto poi scrivete al nostro gruppo facebook ingegnere marcello conto super bonus 110 tutto quello che devi sapere vi ho appena messo i link tra i commenti vi metto tra i commenti anche il link del nostro canale youtube mi raccomando iscriviti e clicca sulla campanella per ricevere una breve notifica ogni volta che pubbliciamo qualche novità ti ho messo anche il link del nostro tik tok seguici insomma per stare sempre aggiornato su tutte le novità del super bonus degli altri incentivi ma anche come sapete in live parliamo anche di tanti altri argomenti più tecnici magari che riguardano insomma la nostra operatività di tutti i giorni vi ricordo che abbiamo bisogno del vostro aiuto per aiutare quante più persone possibile sugli argomenti che trattiamo una sorta di missione quella della la nostra volontà insomma di divulgare questi 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 contenuti puoi condividere la live con i tuoi contatti quando vedi il nostro post su facebook di solito all'ora di pranzo nel primo pomeriggio il giorno della live se ci segui su youtube puoi condividere o il link del video che è appena finito di vedere e che per qualche ragione ti è piaciuto particolarmente oppure direttamente il link di tutto il canale dove insomma andiamo andiamo in diretta poi se vi va di lasciare una recensione sul nostro lavoro a fine live vi metto il link diretto ma partiamo subito con la intanto con il solito goccio d'acqua e poi con la live di stasera puntata numero 417 45esimo appuntamento di questo 2023 come saprete la legge finanziaria 2024 sta sbarcando in parlamento e l'attuale stesura non contiene tracce di proroghe per il super bonus ritengo che questo sia profondamente irresponsabile perché ci sono un numero altissimo si parla di decine di migliaia di cantieri di condomini in ritardissimo sulla tabella di marcia e che si sa già che non riusciranno ad aggiornare a chiudere i lavori entro fine anno la cosa assolutamente folle è che non consentire la chiusura di quei cantieri con l'attuale incentivo al centodieci per cento comporterà delle conseguenze gravissime per i condomini che avranno a disposizione ad esempio il settanta per cento sui lavori svolti l'anno prossimo nel duemila ventiquattro non più il centodieci per cento ballano quaranta punti percentuali chi ci mette questi soldi soprattutto perché i condomini ovviamente hanno fatto un piano finanziario tenendo conto degli importi degli incentivi che sapevamo quindi del centodieci per cento ora che per le opere non chiuse nell'anno duemila ventitré l'incentivo scende al settanta per cento chi mette questi soldi di differenza e poi le imprese tecnici che si troveranno i cantieri bloccati perché i committenti magari non riusciranno ad aggiungere questo quaranta per cento che succederà a loro ok ne verranno fuori contenziosi lunghissimi sicuramente imprese fallite chissà quali altre problematiche che magari in questo momento magari ci sfuggono per questa ragione la filiera delle costruzioni chiede con forza al governo poi ve lo racconto più nel dettaglio una proroga per consentire il completamento dei cantieri che dimostrino un concreto avanzamento cioè se il cantiere è morto e sepolto e non è che se gli dai due tre mesi in più cambia qualcosa però ci sono tanti cantieri che magari sono in movimento in evoluzione e che magari già con due tre mesi in più potrebbero essere chiusi o chiusi quasi del tutto no quindi vedremo subito chi ha scritto al governo e che cosa propone ovviamente come sempre sarà a disposizione per le domande che vorrete farmi durante la diretta ok Pierangelo Passerini dice vorrei mettermi in contatto col tuo ufficio per rappresentare le nostre richieste consulenza nel 2024 grazie guarda puoi mandare in questo momento non abbiamo le vendite aperte come saprete però se mi mandi una mail a marcello chiocciola il tuo amico impiantista punto com vedo come possiamo aiutarti ti spiego un po come possiamo organizzarci per la collaborazione nel 2024 dopodiché scadenza di fine anno cerchiamo di fare un po il punto della situazione altrimenti poi è difficile essere allineati sui vari punti come già visto nelle precedenti live praticamente tutti si stanno organizzando per il completamento dei cantieri sulla base di questo benedetto parere dell'agenzia delle entrate durante l'evento telefisco 2023 organizzato come ogni anno dal da solo 24 ore ho già espresso la mia opinione sul fatto che uno non si può continuare a cambiare le regole a gioco in corso ma l'aggravante rispetto a quello che abbiamo visto finora è questo mentre finora abbiamo dovuto gestire le tante modifiche normative cioè da quando è uscita il super bonus a oggi parliamo di circa una trentina di modifiche normative poi ormai ho preso il conto che hanno cambiato le regole a gioco in corso a volte in modo retroattivo e questo era una cosa che già non andava bene adesso siamo al paradosso di dover inseguire anche le circolari dell'agenzia delle entrate e anche a questo eravamo abituati adesso stiamo siamo arrivati a dover inseguire il parere dato da funzionari dell'agenzia delle entrate durante un webinar quindi durante un evento online vi rendete conto che questa roba è folle vi rendete conto che questa roba non va bene anche perché giusto per fare un po un un piccolo ripassino non dico di educazione civica ma poco ci manca vi rendete conto che già una circolare dell'agenzia delle entrate ha un livello gerarchico infinitamente inferiore rispetto a una legge dello stato e se è già una circolare dell'agenzia delle entrate rispetto a una legge dello stato è praticamente carta straccia che cos'è un parere espresso da qualche funzionario dell'agenzia delle entrate durante un evento online è una roba che non si cioè non dovremmo manco starne a parlare però siccome la ripetono come sempre no le cose ripetute cento volte poi diventano la verità e quindi e te lo dice l'agenzia delle entrate a telefisco e te lo ripete zanetti e te lo ripete giorgetti e te lo ripete la meloni e siamo tutti qui come dei deficienti ad ascoltare quello che l'agenzia anzi a regolarci sulla base di qualità sto giocando con le mie forbici del tricista stiamo qua a parlare a discutere a ragionare su una roba di cui non dovremmo manco parlare manco discutere perché se l'agenzia delle entrate ha qualcosa da dire lo scrive in una circolare santa pazienza altro che telefisco 2023 comunque comunque parentesi se ci fosse un controllo fra x anni e uno si è mosso così come ha detto l'agenzia dell'entrata a telefisco a chi lo controlla cosa gli dovrebbe dire sai cosa ho fatto come ho sentito nel webinar telefisco 2023 cioè se questa roba uno la guarda un po dall'esterno cioè c'è da dirgli ma sei scemo cioè ma tu oggi regoli la chiusura dei lavori magari di un tuo del tuo condominio magari stiamo parlando di x milioni di euro sulla base di un parere online espresso durante un webinar non lo so questa no ditemi voi se è una roba che di cui dovremmo parlare è una roba sana oppure una roba assolutamente malsana comunque per me è tutta roba che non dovrebbe esistere però dato che siamo qua ne parliamo cosa avrebbe detto l'agenzia delle entrate a telefisco 2023 vi do la versione breve poi a fine live se volete approfondire vi do il link del video breve nel quale vi spiego tutto nel dettaglio breve non tanto perché dura una decina di minuti però insomma vi do il link prima di fine live allora l'agenzia delle entrate ha detto che chi vuole beneficiare di cessione del credito o sconto in fattura in alternativa alla detrazione diretta deve finire i lavori entro fine 2023 non solo li deve finire e deve anche contabilizzarli quindi devono esistere gli stati di avanzamento mentre chi sceglie la detrazione diretta di fatto non ha scadenza per il completamento dei lavori come già detto in passato sono d'accordo con l'agenzia delle entrate su due punti sul tema detrazione diretta sul quale già nessuno di noi aveva nessun dubbio sul fatto che la norma non prevede un termine di scadenza per i lavori l'agenzia delle entrate in parlamento ha detto pur che li finiate sti lavori con la detrazione diretta e perché perché ad esempio chi fa la detrazione diretta non deve fare la comunicazione dell'opzione ok perché perché la comunicazione dell'opzione dice semplicemente intendo cedere i miei crediti a tizio piuttosto che usarli direttamente io se tu già li stai usando non devi dire nulla all'agenzia delle entrate ok quindi detrazione diretta non si discute e anche sul tema dello sconto in fattura sono d'accordo con quello che dice l'agenzia delle entrate se vi ripescate i miei vecchi video di febbraio marzo 2023 è da allora che continuo a ripetere che lo sconto in fattura per lavori non ancora conclusi non è una modalità di pagamento valida e lo dicevo quando le tante imprese lo dicevo soprattutto ai nostri clienti quando tante imprese in giro dicevano ma vabbè entro la scadenza di marzo ti faccio la fattura ti scrivo sconto in fatture siamo a posto così io dicevo guardate che no che la fattura una modalità di pagamento valida ad esempio il bonifico parlante su lavori non finiti no il caso di di bonifico parlante e allora se su questi due punti sono d'accordo con l'agenzia delle entrate dove sbaglia l'agenzia delle entrate sbaglia in tutti i progetti o sal perché come sapete all'interno di un unico progetto ogni stato d'avanzamento può avere un trattamento diverso dal punto di vista di di come voglio beneficiare dell'agevolazione perché potrei ad esempio tenermi il primo sal per pagare le imposte quindi come lo uso come detrazione diretta il secondo lo cedo all'impresa che mi ha fatto i lavori e il terzo lo cedo alla banca quindi diciamo che parliamo di progetto però in realtà poi il trattamento è specifico per ogni stato d'avanzamento per lo stato finale quindi l'agenzia delle entrate dice che in tutti i casi nei quali si voglia beneficiare della cessione del credito cioè in tutti quei casi nei quali il committente quindi il cliente finale ha pagato le fatture di tecnici e imprese con bonifico parlante acquisendo così come sapete crediti pari al 110 per cento di quello che ha speso no quindi ha speso ha fatto bonifici per 100.000 gli arrivano sul cassetto fiscale 110.000 euro di crediti di crediti fiscali e vuole cedere questi crediti fiscali a qualcuno che siano le banche le poste l'assicurazione o il suo amico che ha l'impresa edile il supermercato non cambia nulla si parla sempre di cessione del credito in questo caso l'agenzia delle entrate dice che i lavori vanno finiti entro il 31 12 io dico che a mio avviso è possibile ultimare i lavori anche nel 2024 purché in tempo utile per fare la cosiddetta comunicazione dell'opzione entro il 16 marzo 2024 ossia la comunicazione dell'opzione quella che dicevo poco fa di quando voi tramite il vostro caffo il vostro commercialista dite allo stato che anziché la detrazione diretta scegliete di cedere i crediti a qualcuno oppure beneficiare dello sconto in fattura tutto chiaro fin qui ragazzi ditemi se ok in modo che io possa andare avanti senza perdermi per strada qualcuno vi do due secondi nel frattempo bevo un altro goccio d'acqua ci siete ragazzi scrivetemi un commento se ci siete nel frattempo vi dico allora quale dovrebbe essere secondo me l'iter corretto per la chiusura dei lavori in tutti i casi nei quali si vuole beneficiare della cessione del credito tutto chiarissimo dice greg molto bene punto primo paghi i lavori con bonifico parlante entro il 31 12 2023 punto 2 completi i lavori in tempo utile per fare la comunicazione dell'opzione entro il 16 marzo 2024 ad esempio a fine febbraio o nei primissimi giorni di marzo del 2024 perché dico non vi do una data precisa perché bisogna tenersi buoni alcuni giorni tra la fine dei lavori e la data di comunicazione dell'opzione perché perché nel frattempo bisognerà dare il tempo al tecnico di fare l'asseverazione e al commercialista per il visto di conformità ok tutto ok fin qui tutto liscio allora fondamentalmente il tema resta quello dei cantieri nei quali committenti volevano beneficiare dello sconto in fattura mario dice perché col bonifico parlante ok stai un secondo in sospeso perché continua a spiegarvi questa cosa quindi non non bloccarti ok e poi sto vedendo le vostre tante domande poi me le recupero e vi dico allora quindi dicevo se con la detrazione diretta o la cessione del credito si può andare avanti il tema è di tutti quei cantieri per i quali bisogna beneficiare si è scelto di beneficiare di sconto dello sconto in fattura lì come ci si può muovere a oggi purtroppo c'è solo un unico schema possibile il primo è lavori chiusi e contabilizzati entro fine anno e quindi rispondo rispondo a federica che dice come ritieni corretto dimostrare lo stato dei lavori al 31 12 2023 l'agenzia delle entrate dice con uno stato d'avanzamento dei lavori ok che non è detto che sia l'ultimo stato d'avanzamento no cioè io potrei fare che ne so ho fatto già un primo stato d'avanzamento qualche mese fa ne faccio uno al 24 dicembre che il secondo e poi mi faccio il lo stato finale quando ho finito i lavori ok quindi punto primo lavori fatti e contabilizzati entro fine anno punto secondo fatture trasmesse allo sdi entro fine anno lo sdi saprete il servizio di interscambio trasmesso entro fine anno è che arrivino nei cassetti fiscali dei clienti dei committenti entro il 2023 quindi lo dico per tutti i tecnici e per tutte le imprese che mi stanno seguendo che vedranno la registrazione evitate di trasmettere fatture il 31 12 perché se la fattura arriva nel cassetto fiscale del cliente il primo gennaio non avete più il 110 per cento ma avete paro di condomini edificio unico proprietario ma avete il 70 per cento su quelle spese ok quindi perdete il 110 l'asseverazione non è detto cioè l'agenzia delle entrate non dice che i lavori vanno anche asseverati entro fine anno dice che ci deve essere un sal uno stato avanzamento l'asseverazione la potrei fare teoricamente entro i 90 giorni successivi sempre sul portale dell'enea in realtà se vogliamo non bruciare la scadenza del 16 marzo 2024 che è quella della comunicazione dell'opzione la dovrei fare un po prima noi per i nostri progetti le faremo a gennaio oppure redattivamente no facciamo le contabilità finali a dicembre a gennaio con calma ci facciamo le asseverazioni eccetera e poi quarto punto la comunicazione dell'opzione entro il 16 marzo 2024 ripeto la comunicazione dell'opzione quel passo attraverso il quale il vostro commercialista il vostro caff dice all'agenzia delle entrate che voi beneficiari dell'agevolazione super bonus anziché utilizzare direttamente i crediti fiscali come detrazioni per pagare minore imposte nei prossimi quattro anni invece li volete cedere alla qualcuno oppure avete ricevuto lo sconto in fattura dall'impresa nota importante questa data del 16 marzo 2024 che sembra che cade il mondo negli anni scorsi non è affatto stata così rigida intanto perché l'hanno prorogata quindi l'hanno prorogata mi parla il 30 aprile e poi c'è sempre lo strumento della remissione in bonus che significa che pagando una sanzione di 250 euro il termine per la comunicazione dell'opzione si sposta in avanti fino alla data ultima di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento quindi se ho sostenuto una spesa nel 2023 la il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi sul 2023 e il 30 novembre 2024 quindi teoricamente questa scadenza del 16 marzo potrebbe essere spostata al 30 novembre semplicemente pagando una sanzione di 250 euro e credo che soprattutto quando stiamo parlando di lavori che non sono neanche dell'ordine delle migliaia ma delle decine o centinaia di migliaia di euro almeno sono milioni credo che sono 250 euro ben spesi ok e quindi questi sono gli step sconto in fattura lavori chiusi contabilizzati entro fine anno fatture trasmesse allo sdi senza rischiare che arrivino a casa nel cassetto fiscale del committente a gennaio perché perdete il 110 l'asseverazione e poi il visto e poi il visto di conformità e la comunicazione dell'opzione ma la vera domanda in questo momento è perché ci troviamo in questa situazione cioè perché c'è possibile che in decine di migliaia di decine di migliaia di cantieri le imprese abbiano deciso di prendersela comoda le imprese abbiano abbandonato i cantieri le imprese abbiano deciso di diventare improvvisamente poco serie non rispondono più al telefono licenziano il personale cosa sarà successo c'è qualcuno di voi mi vuole scrivere in un commento secondo voi che cosa è successo che ha fatto bloccare decine di migliaia di cantieri tutti insieme perché voglio dire su base statistica è qualcosa ci può anche stare no può capitare l'impresa che aveva fatto male le valutazioni sui sugli aspetti economici dice non ci sto più mi arrivano meno soldi di quelli che mi servono per andare avanti e salta l'azienda qualcuna su base statistica qualcuna qua stiamo parlando di decine di migliaia di cantieri ci sono delle stime che parlano addirittura di 140 mila cantieri ok qualcuno di voi ha voglia di scrivermi secondo voi perché è successa questa situazione e dichiara le sensibilità altrimenti ve lo dico io però altrimenti parlo sempre io e voi non mi date neanche il tempo di bere un cantieri d'acqua diventa complicato no nel frattempo che mi scrivete e sono curioso di sapere cosa ne pensate leggo qualche domanda leggo qualche domanda maurizio seti dice stato avanzamente da considerarsi come asseverazione no sono due step sono due step diversi lo stato d'avanzamento la contabilità di cantiere l'asseverazione uno step successivo vi dico di più non è neanche automatico che siano fatti dalla stessa persona perché direttore dei lavori che è quello che fa la contabilità di cantiere e asseveratore di solito coincidono ma non è automatico federica lo stato d'avanzamento ritieni utile che debba essere con data certa una pecca col cliente si ritengo utile ritengo anzi non utile bensì indispensabile che abbia data certa quindi come dici tu tu immagino sia un tecnico federica come dici tu prendi e lo mandi fai la contabilità e la mandi via pec al tuo cliente e quella è data certa ok teofilo se si fattura entro dicembre ma l'installazione di infissi avvolgibile avviene dopo a gennaio per problemi di forniture materiali è tutto possibile se stai facendo la lo sconto in fattura in linea di principio no perché l'agenzia delle entrate ti dice ci deve essere anche lo stato d'avanzamento e lo stato d'avanzamento non può essere fatto se i lavori non sono fatti lo dice la parola lo stato di avanzamento è come dire il direttore dei lavori va in cantiere e fa una sorta di fotografia poi tradotto in numeri una sorta di fotografia di quello che è l'avanzamento del cantiere quindi trova materiale a pied'opera li contabilizza a pied'opera trova dei lavori svolti li mette in contabilità ok ma se l'installazione di infissi avvolgibili se gli infissi avvolgibili non sono arrivati in cantiere non li può mettere nello stato d'avanzamento l'impresa li potrebbe mettere in fattura ma il direttore dei lavori non te li metterà in stato d'avanzamento succederà questo ok allora iniziate a rispondermi blocco eccessione ma che troppi cantieri è vero c'è stata la corsa a loro con un sovraccarico di lavoro per le imprese in un tempo relativamente breve e questo ha portato al a far inceppare il meccanismo Giancarlo dice la responsabilità di Draghi poi Giorgetti perché ne hanno fatto una questione politica infischiandose delle esigenze dei contribuenti e questa è la verità questa è la vera ragione perché così tanti cantieri simultaneamente si sono inceppati ok è giusto anche quello che dice Simone Tessari blocco della circolazione dei crediti fiscali uguale blocco della liquidità uguale conseguenze a valanga e queste sono ecco l'opa di Draghi questo è la verità ragazzi si è inceppato il meccanismo dei crediti fiscali per cui lo Stato ci aveva detto a tutti fate i lavori tanto voi pago io e poi questa roba invece non è più successa le imprese hanno anticipato i clienti finali hanno anticipato i tecnici hanno anticipato un sacco di soldi alla fine si trovano si trovano che nessuno ha più soldi i cantieri si bloccano questo è molto molto sintetico youtube user dice per chi perché chi dovrebbe acquisire i crediti banchi o altri blocco tra acquisizioni in realtà non è vero perché alcune banche che stanno acquisendo i crediti alcuni fondi e altri vari soggetti che stanno acquisendo i crediti ci sono bisogna magari ragionare su a quanto stanno acquisendo questi crediti che è un tema no ormai arrivano sulle nostre scrivanie tutti i giorni proposte indecenti ok quindi il problema sono dei governi Draghi prima e Meloni dopo che hanno bloccato completamente Draghi ha bloccato il meccanismo della cessione dei crediti ha bloccato la circolazione dei credi la libera circolazione dei crediti che era nello spirito dell'articolo centoventuno del decreto rilancio il governo Meloni nonostante le tante promesse in campagna elettorale lì si è fermato e non ha fatto più nulla di utile nulla di pratico e di operativo quindi chi ha votato governo Meloni ha pieno titolo di sentirsi preso per i fondelli da Giorgina cosa succede ragazzi se non finite sto cantiere intorno al fine anno come visto prima dipende dipende da tre casi diversi se hai scelto la detrazione diretta non succede nulla ok finisci i lavori a gennaio a febbraio a marzo a giugno quando ti pare non succede nulla perché per chi utilizza la detrazione diretta quindi per chi sconta direttamente dalle tasse dalle imposte i suoi crediti fiscali di fatto non esiste un termine di scadenza per questi lavori nel caso di cessione del credito quindi ho pagato con bonifico parlante o i crediti sul mio cassetto fiscale li voglio cedere a qualcuno ma anche posta assicurazione al mio amico che c'è il supermercato che c'ha l'impresedile che c'ha qualunque tipo di altra attività insomma qualcuno che li utilizzerà per pagare le tasse la fine dei lavori come vi dicevo è in tempo utile per fare la comunicazione dell'opzione entro il 16 marzo 2024 teoricamente con la remissione in bonus ci si potrebbe allungare anche un pochettino di più come vi spiegavo prima no pagate 250 euro di sanzione e avete a tempo fino al 30 novembre 2024 terzo punto che è quello più incasinato sconto in fattura e in questo caso non ci sono santi devi proprio finire i lavori entro fine anno se non finisce entro fine anno i lavori sul tuo condominio o sul tuo edificio unico proprietario lì potrai certo proseguire nel 2024 ma col super bonus ridotto dal 110 al 70 per cento quindi mancheranno all'appello il 40 per cento soldi pari al 40 per cento del valore del progetto e non entro nel merito degli oneri finanziari non entro nel merito degli oneri finanziari questo sarà ovviamente tragico perché su tutte le le attività i lavori non fatti e fatturate nel 2023 ma fatti e fatturate nel 2024 i committenti si troveranno a tirar fuori 40 punti percentuali in più rispetto a quanto programmato rispetto ai flussi finanziari previsti rispetto a come era stato pensato il progetto in origine e il 40 per cento ragazzi su milioni di euro sono 400 mila euro e cosa succede se qualcuno poi non è effettivamente in grado di tirare fuori questi soldi cioè becchi il condominio dove tutti hanno qualche soldo da parte dice ok raga una parte del progetto ce lo siamo fatti al 110 una parte ce lo siamo fatti al 70 abbiamo avuto metto una media di agevolazione all 85 non è andata poi così tanto male è andata peggio di come ci aspettavamo ma non è andata neanche in modo così tragico ma se i soldi poi mancano davvero cioè se nel condominio iniziano esserci il 10 il 20 il 30 il 50 per cento delle famiglie che non hanno fisicamente la possibilità di tirare fuori questi soldi no ipotizza condominio di 10 appartamenti che fa un intervento da un milione di euro mancano all'appello 400 mila euro facciamola breve ipotizziamo che la tabella la tabella millesimale sono tutti uguali 40 mila euro a famiglia se la famiglia 1 non ce li ha e poi la famiglia 2 non ce li ha e poi la famiglia 3 non ce li ha che cosa succede succede che il cantiere si bloccherà ma non è che si blocca per qualche giorno probabilmente si bloccherà oltranza probabilmente sarà un cantiere che non ripartirà mai e vi dico di più i cantieri che non sono chiusi per i cantieri che non sono chiusi il condominio si troverà a dover restituire allo stato anche i soldi dei crediti che ha già ricevuto ve la spiego così intervento da 2 milioni ipotizziamo un milione fatto nel 2023 al 110 per cento ok crediti sul cassetto fiscale dell'impresa grazie allo sconto in fattura per un milione 100 ok un milione realizzato nel 2024 al 70 per cento quindi mancano all'appello 400 mila euro il condominio non in grado di tirarli fuori per mille ragioni perché le famiglie non ce li hanno per ognuno c'è i fatti suoi intanto quel cantiere si blocca se quel cantiere si blocca e non verrà chiuso mai quindi dopo tre anni vi fa un controllo l'agenzia delle entrate o l'enea o chi deciderà lo stato e quel cantiere non si è chiuso dovrete anche restituire il milione cento dei crediti sui quali avete beneficiato di sconto in fattura nell'anno 2023 o nell'anno 2022 dovete restituire quei soldi ma non dovete restituire solo il milione cento dovete restituire anche le sanzioni anche gli interessi quindi quel milione cento non diventa quel milione cento a fronte di un milione di lavori fatti non è più un milione cento sarà un milione e tre un milione e quattro quello che sarà bisognerà calcolare a suo tempo quanto tempo è passato quante sono le sanzioni quanto sugli interessi eccetera ok tutto chiaro il quadro devastante ok perché se voi pensate che a fronte di quella è vero che teoricamente avete avuto uno sconto in fattura eccetera ma se vi avessero detto guarda che tu inizi sto progetto ma poi non lo chiudi perché cambierà la normativa perché l'agenzia delle entrate a telefisco dirà qualcosa che cambia le regole e tu quel progetto non l'avresti iniziato quindi ti trovi con lavori svolti sul tuo condominio che normalmente non avresti commissionato ok non li avresti commissionati perché magari non c'hai i soldi per pagarli e ti trovi quindi con questa tragedia quindi cantiere bloccato soldi da restituire rischio di fallimento per le imprese coinvolte chissà cos'altro in tutta quest'ottica in tutto questo quadro che spero di essere riuscito a trasferirvi in modo abbastanza dettagliato in tanti non ci stanno in particolare in vista dell'imminente scadenza del 31 dicembre 2023 che mancano due mesi a due mesi passa anche in fretta soprattutto se ti mancano da fare 10 milioni di euro di lavori nel tuo condominio in tanti stanno bussando alle porte del governo in questi ultimi giorni l'ha fatto l'intera filiera delle costruzioni in particolare ve li leggo perché sono tantissime sigle non me li ricorderei mai associazione nazionale dei costruttori edili la rete delle professioni tecniche quindi tutti i tecnici ingegneri architetti geometri eccetera cna costruzioni quindi la confederazione nazionale degli artigiani fedele costruzioni lega coop produzione servizi e poi le varie sigle della filea della cgl filca della cisl feneal della will ane apa che sono praticamente la parte edilizia del confrattigianato della confrattigianato conf cooperative lavoro e servizi agc produzione lavoro e poi varie altre sigle come fiae casa artigiani confatti insomma varie associazioni di imprese di tecnici e di e di lavoratori anche no perché cgl cisl e will cosa hanno detto al governo in una bella lettera tutti questi signori virgolette è assolutamente necessario individuare una rapida soluzione alle decine di migliaia di cantieri che anche in virtù del caos normativo applicativo dello strumento non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile cioè qua calcano mettono l'attenzione sul fatto che l'evoluzione normativa e quindi il caos normativo e applicativo quindi il capire le regole il vedersi queste regole modificate giorno per giorno di fatto ha portato già questo a dei rallentamenti rallentamenti che ci stiamo portando appresso ok ovviamente c'è tutto l'aspetto dei cantieri bloccati per la monetizzazione dei crediti ma non non ho letto che abbiano calcato che abbiano posato l'attenzione su questo aspetto comunque secondo punto dicono che per recuperare i ritardi accumulati è assolutamente necessaria una proroga tale da permettere una conclusione ordinata alla misura ovviamente sta parlando del super bonus che eviti la perdita improvvisa di centinaia di migliaia di posti di lavoro causata dalla sicura interruzione di migliaia di cantieri che potrebbe derivare dall'insorgere di un enorme contenzioso tra condomini e imprese e scongiuri la corsa forse nata genato per finire i lavori con conseguente rischio sia per la sicurezza dei lavoratori coinvolti sia per la qualità degli interventi eseguiti e questo è un punto secondo me sostanziale molto molto bello cioè dicono ragazzi siamo in ritardo se non ci date la proroga che cosa succede uno decine di migliaia di cantieri saranno bloccati le imprese coinvolte licenzieranno improvvisamente di punto in bianco centinaia di migliaia di lavoratori ragazzi centinaia di migliaia di famiglie si trovano senza stipendio e poi sì gli ammortizzatori sociali tutto quello che vuoi però intanto gli ammortizzatori sociali li paghiamo tutti noi ok quindi cantiere bloccato cantiere non chiuso entro fine anno enorme contenzioso tra condomini ed imprese e quindi c'è tutto questo questa tematica del cantiere bloccato quindi problemi legali tra imprese e condomini quindi imprese bloccate quindi licenziamenti eccetera secondo punto importante anzi altri due punti fondamentali di questo di questa frase è che sottolineano come la corsa già in atto per finire i cantieri entro il fine anno porta due problemi molto grossi il primo è che se tu sei di corsa potresti non mettere la giusta attenzione sugli aspetti sicurezza sul luogo di lavoro cioè potresti virgolette fregartene di far tutte le cose come le devi fare perché sei talmente di corsa perché devi chiudere il cantiere che non hai il tempo di pensare a fare tutte le cose come si dovrebbero fare ok terzo punto la qualità degli interventi eseguiti io ne ho già parlato con alcuni nostri clienti ho detto ragazzi la corsa entro fine anno inevitabilmente potrebbe portare a una diminu a una diminuzione del livello qualitativo degli interventi perché per una ragione molto semplice perché se i lavori se sono su il tempo per fare tutti i lavori con calma con nostro personale con squadre con le quali magari collaboriamo da anni il livello qualitativo è quello standard di cui siamo praticamente orgogliosi eccetera eccetera se devo raccattare gente in giro che siano dipendenti o che siano squadre ovviamente è il livello qualitativo ragazzi non può essere la stessa cosa per questa ragione sono ho dato delle suggerimenti su come ci possiamo muovere eccetera poi sono i clienti che non ho ancora già sentito li sentirò in questi giorni ok quindi fino adesso abbiamo visto il caso normativo è applicativo per la variazione di normativa quindi un quadro confuso un quadro di difficile comprensione un quadro difficile invece l'applicazione ha portato a un rallentamento questo rallentamento se i cantieri se non si otterrà una proroga la gente continuerà a correre quindi nel correre trascura gli aspetti sicurezza e trascura gli aspetti qualità dei lavori se il cantiere si blocca per mille ragioni ci saranno dei contenziosi tra imprese e clienti finali e condomini per cui questo determinerà il licenziamento di centinaia di migliaia di persone altro punto una proroga limitata per i soli interventi che dimostrino un concreto avanzamento del cantiere potrebbe risolvere tutti questi problemi con un costo contenuto per le casse dello stato di gran lunga inferiore a quello del caos sociale ed economico che si determinerebbe lasciando invariata la scadenza dicembre quindi ci dicono in modo esplicito ragazzi guardate che se non fate qualcosa non date una proroga almeno per i cantieri che stanno mostrando di essere a buon punto che stanno mostrando di avanzare ok guardate che succede a carta che finisce a carta 48 cioè arriverà un caos sociale ed economico perché che cos'è facciamo un esempio ipotizziamo che siano anche solo 50.000 cantieri fermi 50.000 cantieri fermi potrebbero essere 20 30.000 imprese che saltano potrebbero essere una media di 5 si addetti impresa potrebbe essere che saltino alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro ipotizziamo che questa roba nel complesso nel complesso coinvolga 500.000 famiglie tra committenti con lavori bloccati e che dovranno restituire allo soldi imprese che saltano per aria personale licenziato ipotizziamo che coinvolga 500.000 famiglie ipotizziamo che la famiglia media sia di quattro persone stiamo parlando di due milioni di persone coinvolte che potrebbe essere anche un valore sottodimensionato e che cosa ne viene fuori da due milioni di persone coinvolte che rischiano di perdere la casa rischiano di trovarsi senza i soldi per fare la spesa caos sociale ed economico l'hanno definito benissimo io come sapete non faccio mai il catastrofista però ragazzi la situazione è talmente evidente che mi sembra così strano che non abbiano ancora pensato a metterci un rimedio cioè la situazione è grave ragazzi non è una robettina così da nulla ultimo punto ci dicono la legge di bilancio deve offrire una soluzione concreta quindi individuano lo strumento normativo legge finanziaria come quello nel quale inserire questa soluzione concreta a un problema che riguarda da vicino migliaia di lavoratori famiglie e imprese che in buona fede hanno avviato i lavori e ora rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in buona fede tutti noi ragazzi i clienti finali i tecnici le imprese tutti ci siamo mossi in buona fede leggendo e interpretando nel modo più attento possibile una legge dello stato con le sue circa 30 modifiche normative questa è un pochettino la situazione ok ma prima di dirvi cosa ne penso io nello specifico perché fino a vi ho raccontato un po quello che sta quello che sta succedendo voglio leggere un po di vostri commenti voglio vedere se ci sono domande sulle cose che abbiamo visto finora scrivetemi anche se non avete ancora fatto in un commento cosa ne pensate del quadro tutt'altro che edificante che vi ho raccontato finora ok scrivetemi un commento perché mi interessa sapere cosa ne pensate vediamo un po le vostre le vostre indicazioni e le terri caro marcello come direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dico la difficoltà di sospendere i lavori senza causare al committente per lavori eseguiti male o carenti o per sicurezza a ok sono veramente preoccupato cioè ti metti giustamente il tema da direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza come faccio a sospendere il cantiere perché magari vedo che l'impresa sta andando sta prendendo alla leggera la sicurezza a causa fretta oppure i lavori sono fatti male come faccio a bloccare quel cantiere normalmente sapete benissimo chi fa sicurezza sa bene che ad esempio nel caso di pericolo grave e immediato si chiama così proprio nella normativa della sicurezza quello che tu puoi fare da coordinatore della sicurezza è bloccare quelle attività non il cantiere quelle attività nelle quali c'è un pericolo grave immediato ok pericolo grave immediato significa che se continui a fare quello che stai facendo come lo stai facendo rischia di farsi male seriamente qualcuno ok e giustamente l'eterre dice io come faccio cioè da un lato dovrei sospendere il cantiere dove stanno lavorando male dove stanno prendendosi alla leggera stanno prendendo la sicurezza alla leggera e come faccio bloccare quel cantiere perché poi rovino la vita committente perché se quel cantiere non si chiude entro il 31 12 perché tra quelli di prima di sconto in fattura come come facciamoci rovino la vita committente che deve anche restituire i soldi dei crediti già di cui ha già beneficiato poi raga ricordatevi una cosa se anche l'impresa vi ha fatto lo sconto in fattura su precedenti stati d'avanzamento e i crediti voi li avete ceduti all'impresa il beneficiario dell'agevolazione siete voi committenti siete voi quindi chi restituirà i soldi allo stato con le sanzioni gli interessi non è l'impresa non è la banca alla quale avete ceduto il credito siete voi i beneficiari sono i clienti finali questa roba ragazzi io penso di averla detta già nella live adesso ve lo dico stiamo parlando di tre anni fa sicuramente raga la live numero 8 controlli e sanzioni quindi nella live di verosimilmente primi di ottobre del 2020 più di tre anni fa vi ho detto questa roba di quali erano i rischi ok i beneficiari siete voi se avete dubbi su come funziona il meccanismo vi recuperate la live numero 8 dovete scorrere parecchia ritroso dato che oggi siamo alla 417 comunque andate ritroso e vedete che cosa succede quando lo stato si mette di traverso ok quindi è vero che capisco le difficoltà di elettere che dice il cantiere è fatto male o in parte fatto male non c'è attenzione alla sicurezza e io come faccio a bloccare il cantiere che rovino la vita al cliente davide mazza se un cantiere 110 con sconto in fattura per questi lavori sarà valido ancora lo sconto in fattura nel 2024 anche se al 70 per cento dato che la cilas risale 2022 la risposta è sì cioè tutte le cilas presentate in data antecedente il decreto 11 che mi parerà 16 febbraio 2023 continuano ad avere lo sconto in fattura ciro lanzillo visto che le direttive europee sulla riqualificazione energetica degli immobili entro il 2033 incombe non è pensabile che un prossimo governo sia costretto a riconsiderare un nuovo super bonus in futuro la risposta è sì poi non ci sottilizziamo si potrebbe chiamare super bonus si potrebbe chiamare pinco pallino però certamente assolutamente in impensabile che di fronte al poco tempo che abbiamo a disposizione perché qua si continua a dimenticare vi ricordate che il super bonus si è iniziato ieri no ragazzi sono passati più di tre anni capito sapete come si arriva al 2033 così e poi ci troviamo con un magari una procedura di infrazione dell'europa nei confronti dell'italia perché non ha raggiunto gli obiettivi questa è la cosa quando avevamo in mano lo strumento super bonus che stava portando risultati ok voi lo volete modificare modificatelo ma non si può bloccare tutto di punto in bianco non si può ok elettere giustamente dice qualità e sicurezza poco vanno d'accordo con la fretta no non ci vanno per niente d'accordo federica mi unisco alla domanda di ciro lanzillo spero di averti risposto davide mazzo risposto cavallette fritte rifatte bagni con sconti fattore 75 no non ci occupiamo di edilizia rita dice analisi sempre eccellenti complimenti ingegnere grazie mille gentilissima andrea dice non trascuriamo il fatto che ci sono menore giornaliere di lavoro perché giornali sono accorciate vero mario dice gravissimo la restituzione importi dei lavori già svolti se il cantiere non è concluso ante 2023 può chiarire il motivo ad esempio se le due classi energetici sono superate perché la restituzione intanto ragazzi qua stiamo parlando di cantieri non chiusi cantieri in alto mare quindi riesci a ridimensionare il progetto allora io l'ho già detto altre volte riuscite a ridimensionare il progetto perché vi accorgete che siete in ritardo mantenendo il salto di due classi perfetto è una bella soluzione meglio un progetto più piccolo che nessun progetto ok se però tu non sei arrivato a questo a questo risultato perché faccio un esempio dove cambiare gli infissi non li hai cambiati dovevi fare il cappotto ne hai fatto la metà dovevi rifare la centrale termica non è finita e le due classi energetiche da dove ti vengono fuori non basta volerlo fortemente poi lo devi dimostrare ausilia buonasera ingegnere mi ritengo fortunata di far parte di un condominio che per lo spavento quindi per la preoccupazione non ha mai iniziato nulla e che vuoi che ti dica in qualche modo c'è ragione senza sconto in fattura o cessione i poveri non saranno mai a posto per gli obiettivi green verissimo concordo al cento per cento le case le sistemeranno solo i capienti fiscali sui ricchi raga questa è l'impostazione che è stata data attualmente il lo strumento della cessione del credito e lo sconto in fattura era eccezionale soprattutto lo sconto in fattura perché consentiva un po' a tutti di mettersi alla pari di affrontare la riqualificazione energetica e anche antisismica del proprio fabbricato adesso tutta questa roba sta saltando per aria cioè è saltata per aria grazie ai draghi e meloni della situazione grazie giovi vediamo un po' altre domande e poi vi dico cosa ne penso io assolutamente sacro santo quello che dice g altro punto importante la proroga va comunicata adesso con decreto urgente non in legge di bilancio natale verissimo perché se la finanziaria come tutti gli anni viene pubblicata il 28 il 29 dicembre chissà quanta gente si è arresa nel frattempo cioè finché tu oggi inizio di novembre dici ragazzi la scadenza è spostata al 31 marzo fate le cose bene fatele con calma 31 marzo non ci saranno altre proroghe finisce così ok ultima chiamata a questo punto a questo punto uno si organizza e dice riesco a finire il cantiere in due mesi in cinque mesi scusate non riesco a farlo tutto posso studiare una versione ridotta sulla base della quale riesco a essere sicuro di chiuderlo per marzo figo procediamo così va benissimo se me lo comunichi il 28 dicembre tutti quelli che si sono arresi ormai sono fuori dai giochi magari sono già dai legali per litigare con tre imprese committenti e anche quelli che in qualche modo sono in ritardo ma hanno portato avanti i lavori si trovano disorganizzati magari hanno stralciato opere che avrebbero fatto in tempo a fare e questa va sacrosanto quello che ha detto cioè va comunicato adesso non va comunicato il 28 dicembre cristiano buonasera in giro per aiutare la ditta in difficoltà ho pagato gli infissi alla caldaia posso portare in detrazione sempre il resto del lavoro usufruisco dello sconto in fattura allora devi fare così intanto l'impresa ti avrà fatto lo sconto in fattura parziale faccio un esempio ti ha fatto una fattura da 100.000 all'interno della quale c'erano 30.000 di finestre di caldaia ti ha fatto lo sconto in fattura su 70 su 30 no i quei 30 tu li hai pagati con monifico parlante quei 30 anzi i 33 che il 110 dei 30 che tu hai pagato vanno sul tuo cassetto fiscale te li usi come detrazione per il resto della fattura c'è lo sconto in fattura ricordatevi ragazzi che lo sconto in fattura può essere parziale cioè voi vi accordate con l'impresa che della fattura che mi fai metà te la pago su metà mi fa lo sconto in fattura ok si può fare ragazzi quindi nessun problema cristiano tranne che sia juventino ma questo è un altro discorso allora luigi antonio purtroppo ci stanno buttando tutti nel fosso maurissio general contractor che stiamo utilizzando era in difficoltà per la cessione dei crediti di quei canali ordinari mesi fa creato una società di cartolarizzazione a breve dovrebbe sbloccare se la situazione un suo parere la cartolarizzazione è uno strumento purtroppo lento purtroppo lento teofilo si sentono acquisti al 70 80 per cento spero non siano veri si sentono acquisti anche il 50 per cento veramente per cui io dico chi ha la possibilità di perché è capiente insomma perché può aspettare e può utilizzare la detrazione diretta la detrazione l'unica che oggi ti dà il beneficio di 110 se c'è dal 70 comunque ci stai perdendo soldi allora ritieni sia serio un amministratore di condominio che in assemblea di ieri ha proposto un general contractor non serio a mio avviso proponendo ai condomini di sottoscrivere il contratto perché il general contractor garantirà il 110 per cento anche per il 2024 consideri che oggi abbiamo solo studio di fattibilità del 2020 computometrico di ottobre 2023 ovvero non sono stati eseguiti i lavori seppur la cilessi è stata depositata entro novembre 22 ma i lavori non sono eseguiti grazie per l'attenzione allora il fatto che i lavori non siano eseguiti se un condominio non è rilevante non dovevi dimostrare nessun raggiungimento di soglia né niente il fatto che ti garantisca il 110 nel 2024 è purtroppo non dipende da loro le spese sostenute entro il 2023 hanno il 110 per cento si è presentato la cilas a novembre 22 le spese sostenute nel 2024 anni 70 per cento questo non lo decide il general contractor capito non lo decide il general contractor lo decide lo stato ok poi se mi se ti hanno dato qualche riferimento normativo lo leggiamo assieme non c'è problema andiamo avanti buonasera in ginbozza è stata inserita la possibilità di ripartire in dieci anni credite a super bonus allora stavo vedendo sapevo che c'era però la bozza non l'ho ancora letta ok quindi non ti voglio dire sciocchezze so che la volevano inserire come l'hanno inserita l'anno scorso per le spese sostenute nel 2022 questo aiuterebbe moltissimo perché tante persone potrebbero beneficiare della detrazione diretta spostando avanti la scadenza dei lavori che è una cosa importante jack sparrow a mio avviso bisogna abolire il super bonus 110 e tenere sconto in fattura eccessione del credito per tutti gli altri interventi cosa ne pensa inch che non dipende da me né da te e quindi noi semplicemente dobbiamo leggere e applicare quello che lo stato decide è un'ipotesi come mille altre che si sono fatte in questi anni si c'è chi diceva facciamo il super bonus al 110 solo per certi redditi chi diceva solo per le prime case chi diceva solo per le case in classe energetica peggiore sono tutte possibili cose poi decide il governo il parlamento che quale strumento decidono di scegliere di applicare maurice ossetti per fortuna che giorgetti diceva che il 110 era solo per i ricchi sono in clamorosa ma la fede spercivolo nella veloce io mi auguro con tutto il cuore che questo governo cada quanto prima ma di brutto il problema è che se anche cadesse adesso non ci sono strumenti ma con la proroga di cui stiamo parlando oggi per accelerare quindi la chiusura entro il 31 dicembre sarebbe quindi possibile anche rimodulare il progetto la risposta è sì certo jack sparrow ingegnere non so se riguarda la tv ma la serie varie talk show talk show tutti dei niger nel super bones che causa tutti i mila mali ieri c'è il direttore di libro che sembrava un indemoniato contro il 110 e purtroppo ragazzi sono sono teatranti il direttore di libro è un teatrante è uno che dice quello che deve dire quello che qualcuno gli ha detto di dire ma questo non è che che è arrivata ieri questa novità è comunque mi chiedo se guardo la tv no non guardo la tv o meglio guardo il televisore e ci guardo un film magari quando mi voglio liberare la mente una serie tv non non guardo non guardo i talk show i vari bruno vespe esiste ancora non li guardo penso che sia una cosa veramente intanto raga non dedicate tempo a cose che non potete condizionare giovi micoli il mio genere contratto ci garantisce tutto scritto in contatto che continua a fare lavoro anche nel 2024 ma infatti li può fare il lavoro nel 2024 e g l'italia ridotta tifoseria da barra è la sua ragazzi ma che ne penso di questa roba qua raga io penso che cari membri del governo avete di fronte a voi due porte porta concedete una proroga magari limitata qualche mese magari limitata ai cantieri che sono già a buon punto potreste mettere una soglia di se il cantiere almeno al 60 per cento d'avanzamento ad esempio consentite a di chiudere il cantiere a chi ha un punto e nessuno si farà male porta b porta numero due fate finta di nulla lasciate tutto così com'è finora ve ne fregate delle richieste delle istanze della filiera dell'edilizia ve ne fregate di tutto lasciate tutto così e allora dovrete raccogliere gli enormi cocci fatti di decine di migliaia di cantieri bloccati molti per sempre perché una volta saltate il super bonus saranno pochissimi quelli che avranno i soldi per chiudere questi cantieri non chiudere significherà rovinare la vita alle famiglie che si sono fidate dello stato rovinare la vita le migliaia di imprese che salteranno per aria come conseguenza del blocco di questi cantieri portando a fondo con sé centinaia di migliaia di lavoratori in sostanza come benissimo ha detto la filiera dell'edilizia che ha scritto al governo un caos sociale ed economico il mio augurio naturalmente ragazzi è che il governo si ricordi che un barlume di intelligenza ce l'hanno da qualche parte e che faccia una riflessione profonda su questi punti sugli effetti la smetta di fare questa battaglia politica contro i super bonus solo perché l'ha pensato un altro governo ok smetta di fare guerra politica ragazzi non siete più in campagna elettorale siete al governo il movimento 5 stelle ha perso le elezioni voi siete al governo dimostrate di essere migliori del movimento 5 stelle del partito democratico e di tutti quegli altri che hanno perso le elezioni perché voi le avete vinte ve lo ricordate le avete vinte più di un anno fa le elezioni erano il 25 settembre del 2022 passato un anno raga non potete dire che non possiamo continuare a fare la guerra politica super bonus caro giorgetti dimostra con i numeri perché il super bonus è stato un fallimento perché è stata la più grande truffa dell'italia come aveva detto draghi siete tutti veramente molto in gamma siete veramente molto in gamma dei bugiardi patentati veramente molto in gamma insomma raga cosa ne verrà fuori non c'ho la sfera di cristallo mi auguro solo che intanto ci sia un po' di collaborazione un po' di lungimiranza da parte di tutti i coinvolti quindi che committenti imprese tecnici non litighino perché avreste riempito avreste riempirete i tribunali per decenni intanto nino dallari giustamente dice buon fine settimana mancano un po' di mi piace ragazzi non ve lo non ve lo ricordo più però se vi va di solito mi dimentico se vi va di mettere un mi piace a questa live alla nostra pagina facebook al nostro canale youtube a noi fa piacere per voi è un piccolo una piccolazione per noi è una una carezza emotiva diciamo così è un piccolo supporto ok jack sparrow dice bravo non non li chiuderà gran parte della gente i cantieri senza proroga cessione sconto gli manca il salenzuco a chi non vede queste cose franco dice le cose cambieranno solo se il popolo si ribella ma con spiritualità facendo cadere la meloni in modo che super bonus trionfi in felicità il popolo deve essere pacifico ma agire con sovranità ragazzi cosa volete che vi dica auguriamoci che qualcuno rinsavisca che non non si continui con quest'andazzo che non segna per niente bene ragazzi prima di salutarci voglio ricordarvi che se volete vedere il recente video di super bonus 110 ultime notizie nel quale vi spiego nel dettaglio cosa ha detto l'agenzia delle entrate perché oggi vi ho fatto la versione molto sintetica comunque come cosa ha detto l'agenzia delle entrate durante l'evento telefisco 2023 di cui abbiamo parlato in questa live lo trovi cliccando sul link diretto che vi incollo adesso tra i commenti eccolo lì ve lo ho messo tra i commenti video già visto da oltre 95 mila persone in pochi giorni se te lo sei perso io lo recupererei però vedete voi fatemi sapere cosa ne pensate con un commento sotto il video dopo che l'avete visto se vi va di lasciare una recensione sul nostro lavoro potete farlo su google al link che vi ho messo adesso tra i commenti mi raccomando non lasciarci solo le 5 stelle ma anche scrivici in un commento perché appresti il nostro lavoro se ti abbiamo aiutato quali sono stati i benefici per te del nostro supporto e poi mi raccomando se vi siete persi qualcuno delle live precedenti la potete recuperare sul nostro canale youtube ingegnere marcello conto link tra i commenti sul nostro gruppo facebook dedicato al super bonus 110 mi raccomando iscrivetevi cliccate sulla campanella per ricevere una notifica quando pubblichiamo qualche novità scusatemi e seguiteci anche sul nostro tiktok non so neanche se si chiama canale spazio come si chiama seguiteci anche su tiktok abbiamo messo i link di tutto tra i commenti grazie mille per i tanti 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 commenti tanti ringraziamenti grazie ingegnere ingegnere grazie mille per l'impegno alla spiegazione grazie mille a voi buon fine settimana a tutti voi grazie di tutto anche a voi raga che altro dire grazie esserci stati buon weekend ci vediamo in live giovedì prossimo rilassatevi riposatevi vi voglio bene ciao grazie mille condividete con i vostri amici ciao ciao